il passi ma fai notate ma ora chi è che gioca non ha capito adesso ti prendo la magnifium e ma è un uno guarda cazzi allo stadio di zep e beazza di san siro dove il mio amico stanno allestendo il maxi schermo per noi per noi non per lui ok lo schermo è per noi non per lui e credo è capito lo schermo è per noi qua lo stadio mezza voi andare al circo ok ma provo che puoi fare quello che vuoi non è possibile poi la posto del mondo farga la propria port ok c'è un bacino anche la prima poi gira. Tiziano, espondi con tutte le parole. 10 minuti di riscaldamento e poi un approccio di tutte le informazioni. Quattro. Quattro presenti mi sorrisi che finiscono. Buon tia. No, 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 no. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.